Buonasera, benvenuti al TG7 Basilicata. L'affetto di una nonna verso il nipote, ancora una volta è stato usato come pietra di scambio per perpetrare una truffa, questa volta danno di una signora di Ferrandina. Una telefonata a casa dell'anziana, fincendosi il nipote, preannunciando l'arrivo di due impiegati delle poste, che sarebbero passati per ritirare il danaro. Un'ulteriore stratagemma per allontanare la figlia da casa, comunicandole per telefono l'arrivo di una raccomandata da ritirare personalmente. Così due quarantenni di Napoli hanno preparato il terreno e si sono presentati all'abitazione dell'anziana donna. La povera donna era quasi costernata di avere solo 1.500 dei 4.000 euro necessari e subito è andata a prenderli nella camera da letto, ritrovandosi alle spalle uno dei malviventi che l'ha strappato di mano la busta contenente le banconote. Rientrata dall'ufficio postale senza alcuna raccomandata, la figlia ha ritrovato l'anziana madre in stato di sciocca e ha deciso di chiamare immediatamente il 112, facendo intervenire sul posto la locale stazione Carabinieri. A casa della signora il militare intervenuto ha raccolto i primi elementi utili al proseguo delle indagini, tra cui una descrizione della macchina e dei due uomini il cui accento modus operandi ha fatto intuire all'esperto militare la probabile via di fuga. Tutti elementi che sono stati poi comunicati alla centrale operativa della compagnia di Pisticci. Immediati gli accertamenti disposti dal comando, il successivo allarme è stato dato poi alle pattuglie in circuito. Poco prima di Tito è stata intercettata la vettura in fuga, agganciata dalla radiomobile di potenza, il cui equipaggio ha ingaggiato un inseguimento con i malviventi. All'altezza dello svincolo per Sicignano, i due fuggiaschi hanno tentato di speronare la gazzella dell'arma, non riuscendoci solo per l'abilità dell'autista, che in quella circostanza è riuscito ad allargare la traiettoria, sottraendosi all'impatto e chiudendo definitivamente la strada all'autovettura dei due malviventi, che a quel punto sono stati costretti a fermarsi. Scesi dalla macchina, i due hanno tentato fino alla fine di opporre resistenza ai militari dell'arma, che però sono riusciti ad immobilizzarli e arrestarli, recuperando l'intera somma sottratta alla vittima. Su disposizione dell'autotilità giudiziaria potentina, i due uomini sono stati associati alla casa circondariale di potenza. Per questa edizione è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.